Cari concittadini e concittadini, stiamo vivendo un momento molto particolare della storia della nostra città e della nostra nazione. Ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte per limitare la diffusione di questo virus. Seguendo le indicazioni che ci ha dato il Governo e l'Istituto Superiore di Sanità, evitando gli assembramenti, limitando il più possibile i nostri spostamenti e le nostre attività sociali, saremo in grado di limitare la diffusione del virus e uscire più velocemente da questa situazione. Faccio un'altra richiesta ai cittadini di Parma, quella di non ascoltare le fake news, quella di rivolgersi solamente ai canali istituzionali di Governo, Regione e Comune. Non badate a quello che potete leggere sui social media o che vi può arrivare anche direttamente tramite WhatsApp. Utilizzate solamente i canali istituzionali che ogni giorno ci informano dell'evoluzione del virus e di quello che sono magari nuove misure e che tutti noi dobbiamo adottare. Per quanto riguarda la situazione economica, i Comuni insieme alla Regione e al Governo stanno lavorando a una serie di pacchetti di misure a sostegno dei settori più danneggiati dalla situazione che stiamo vivendo. Non solamente degli spostamenti, delle tassazioni, dei contributi, ma dei veri e propri incentivi e misure economiche a sostegno per non solo superare questo momento difficile, ma anche per poi ripartire quando la situazione sarà definitivamente chiusa. Per quanto riguarda invece il Comune, sta lavorando allo sgravare le famiglie dal pagamento delle rette dei servizi per l'infanzia che oggi sono chiusi in proporzione per i mesi che sono stati parzialmente usufruiti e in misura totale se i mesi saranno completamente non usufruiti per quanto riguarda la chiusura totale delle scuole. Quindi questo lo vedremo alla fine del periodo di quello che ci verrà indicato dal Governo. Infine fatemi ringraziare di cuore tutto il nostro sistema sanitario, regionale ma nello specifico quello locale. Il nostro ospedale, la nostra Ausl, tutti i medici di base che ogni giorno lavorano in prima linea per dare sollievo alle persone che sono state contagiate, ma anche dare informazioni alle persone che magari possono essere spaventate da questa situazione. Un ringraziamento va anche a tutte le associazioni di soccorso che prestano i servizi soprattutto nei piccoli comuni, ma anche ai dipendenti comunali, agli autisti degli autobus, a tutte quelle persone che all'interno delle istituzioni ergano i servizi essenziali perché la nostra città possa andare avanti. A tutti voi va veramente il mio grande plauso e la mia vicinanza. Sono fiducioso che in tempi brevi usciremo da questa situazione, ma lo faremo solamente se ognuno di noi farà la propria parte rispettando le semplici regole che abbiamo voluto anche qui ricordare. La nostra comunità più volte ha dovuto affrontare situazioni difficili e ne è sempre uscita lavorando insieme in modo coeso e sono convinto che lo faremo anche questa volta. Grazie. Grazie.